Ciao a tutti, ci troviamo nel Camo Wheel Post Office Hotel, Motel e Caravan Park, cerca della frontiera con la Northern Territory. E' un allogio molto pulito e bello, le camere sono molto grandi e ben attrezzate. Anche potete fare campeggio qui o venire e dormire nel vostro caravan, anche potete cucinare qui. E' perfetto per famiglie, c'è una piscina anche, si trova accanto a un supermercato e c'è un ristorante nell'hotel anche. E' molto buono, potete fare colazione, potete cenare anche, anche è un bar, poi potete bere qualche birra o ciò che vi piace. Non è solamente visitato per turisti, ma anche ci sono molte persone del luogo. Poi, se vi trovate a cerca, possiamo raccomandare e venire qui.